Un esemplare giovanile di gambero tigre si aggira nervoso su questa spugna. Alla base della spugna in penombra, due esemplari sembrano ignorare la nostra luce. La livrea allo stadio giovanile è prevalentemente bianca e lucida. Ciò rende il gambero più vulnerabile perché lo espone ad essere facilmente visto dai suoi predatori. Un esplorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.